buongiorno sono il cardinale cristobal lopez salesiano di don bosco sono a roma nella parrocchia san leone primo papa il magno che mi ha stato data come regalo come un dono per il santo padre perché io possa sentirmi vincolato a questa chiesa e la madre il centro di riferimento di tutta la chiesa universale profitto questa occasione per salutare tutto il mondo salesiano sono vescovo a rabat nel marocco noi lavoriamo mano dalla mano con i musulmani come fratelli con le sorelle musulmane per costruire il regno di dio nel nome del padre del figlio del spirito santo